Comandante, due riunioni proficue, una all'Arse e una in prefettura per risolvere il problema tavico del dragaggio del porto. Ci siamo questa volta? Speriamo di sì, speriamo di esserci, anche visto l'impegno profuso dalle amministrazioni, in prima persona anche dal sindaco Fasulo che ringrazio. Speriamo a questo punto di poter iniziare al più presto questi lavori, visto specialmente l'incontro proficuo e produttivo che c'è stato in protezione civile. Devo ringraziare oltremodo anche la prefettura, la sua eccellenza la dottoressa Cucinotta, che si è interessata immediatamente e ha capito le nostre problematiche del porto di Gela. Sostanzialmente i lavori da fare per un primo intervento importante non sarebbero dei lavori troppo impegnativi, bisognerebbe intanto dare la possibilità di rendere fruibile il porto, poi per i grandi progetti ci sarà tempo eventualmente. Lavori di ordinaria manutenzione, per quanto riguarda togliere questa sabbia che ci sta impedendo la fruizione del nostro porto e poi eventualmente realizzare anche una piccola massicciata di circa 40-50 metri, che non sarà altro che dei massi messi per un futuro porto che verrà successivamente realizzato, ma questi massi ci permetteranno di riuscire a coprire, riuscire a riparare l'ingresso del porto da ulteriori mareggiate e dall'ingresso di ulteriore sabbia. Ciò che emerge dal suo impegno personale nel ricoprire questa carica all'interno di questa città è la passione con cui lo fa, nel senso che lei ha dichiarato più volte di sentirsi gelese. Sono, l'ho sempre detto, sono arrivato a Gela contento, contento di poter lavorare per una bella città. Quando c'è un qualche cosa che possa mettere in buona luce la nostra città, mi muovo battendo anche i pugni. A iniziare dai lingotti di oricalco che sono stati ritrovati, che è stata una scoperta a livello mondiale, è stata una cosa bellissima, per cui mi sono battuto tantissimo. Ringrazio la sovipendenza, ringrazio la procura, ringrazio la guardia di finanza con cui abbiamo lavorato in simbiosi. Mi sono battuto perché questi lingotti rimanessero a Gela, al museo di Gela.